Per un minuto di Storia con Mario oggi parliamo di Karol Wojtyla che nacque il 18 maggio del 1920 in Polonia, a Katowice, vicino a Cracovia. È l'uomo forse più carismatico del ventesimo secolo, è il Papa eletto come San Giovanni Paolo II nel 1978, quasi 500 anni dopo l'ultimo Papa straniero, Adriano Lolandese. È il Papa che sconfisse il comunismo fin dal discorso d'apertura, invocò i popoli a reagire dicendo non abbiate paura, aprite anzi spalancate le porte a Cristo. È il Papa che ha segnato un'intera generazione, San Giovanni Paolo II ha certamente segnato anche me.